Il mestiere faccio l'economista, da quando sono uscito dall'università, non ho mai avuto un posto di lavoro dipendente perché, come capita a molti ragazzi di oggi, sempre più spesso, quando sono uscito dall'università non c'era nessun posto di lavoro per le competenze che avevo acquisito, che sono di analisi dello sviluppo, analisi delle condizioni che consentono al territorio di aumentare il rendimento per ogni nuova lavorata, di accumulare, di crescere. Questo capitava molti anni fa, nell'80, e uscivo dall'università con una tesi sull'industria delle macchine utensili dell'Alto Vicentino, o meglio, del Vicentino. Quindi avevo studiato tutte le aziende che all'epoca facevano macchine per la lavorazione in metalli nella provincia di Vicenza, facendomi l'idea che anche in un territorio come il nostro, dove non c'erano all'epoca grandi aziende, di Aschiosi, era possibile avere livelli molto elevati di sviluppo anche a partire da queste strutture organizzative molto fragili che erano le piccole aziende manufatturiere meccanti. Anzi, devo dire che prima ancora di laurearmi, nel 1975, uno dei miei maestri mi aveva chiesto di fare delle indagini sulle aziende locali, cosa che ho fatto mentre ancora stavo studiando, perché era venuto fuori ancora nel 1975-76, che nei garage, nei retro bottega Vicentini e nella zona di Reggio Emilia, che è una struttura industriale semplice alla nostra, c'erano salari di fatto più elevati di quelli della FIAT. Questo mio maestro è quello che lavorava all'epoca con la Federazione dei Lavoratori di Medicina e Meccanici che oggi è in un centurio, l'FLM, che aveva, ovviamente era una federazione sindacale dei lavoratori dipendenti. Parlando con i funzionali di questa federazione, il mio maestro aveva scoperto questo dato sorprendente all'epoca per gli economisti. Il giusto Nessandro Magolà, che io conosco per interposta persona, perché all'epoca in cui facevo queste attività lavoravano solo a qua, sindacalista del Cilco dell'EPLM, che è stato uno dei miei sponsor nell'analisi di questo sistema di aziende che aveva, ripeto, salari di fatto più elevati di quelli che c'erano alla FIAT, salari di fatto, vuol dire, in busta. E l'altra cosa sorprendente era che nella provincia di Vicenza, parliamo del 1975-76, c'erano più macchine a controllo numerico, all'epoca ancora con i dischi, con i nastri, insomma, erano macchine automatiche, per modo di dire, però c'erano più macchine a controllo numerico di quelle che c'erano alla FIAT, no? Quindi il mio maestro diceva qua c'è qualcosa che non va o nella realtà o nei libri che noi usiamo all'università per studiare quali sono i modelli organizzativi più efficienti. All'epoca noi studiavamo sui libri degli americani che i modelli efficienti per confetto in giro per il mondo erano i modelli di grandi aziende, la FIAT, come si chiama, il COVAU, che poi era la nuova opinione, stava alla FIAT come nuova opinione, o la SMIT alla Lanian Rossi, ma era l'azienda in cui si fabbricava i robot, l'automazione, i sistemi automatici di movimentazione. All'epoca si pensava che la forma organizzativa vincente fosse quella della grande azienda ed era impossibile, come dire, sorprendente pensare che invece in un territorio come questo, fuori dalle reti, soprattutto nel triangolo Marano, Tienes, Chio, no? Ci fosse questa concentrazione di aziende così produttive che potevano consentirsi salari molto alti, fuori dalle linee di traffico principali dai grandi infrastrutture, con un'organizzazione assolutamente instabile e non paragonabile a quella che noi studiavamo all'epoca sui libri. Con il tempo poi ci siamo resi conto che il sistema organizzativo del nord-est di questi territori, non solo nella meccanica ma in molti altri settori, il sistema organizzativo, la società che metteva insieme queste capacità produttive e questi capitali era, come dire, dal punto di vista dell'efficienza paragonabile a quella della grande azienda, forse migliore da molti altri punti di vista. Ne discutiamo quando ci confermete ovviamente perché siamo ancora qui dopo molti anni, però diciamo che io appena uscito dall'università, già negli studi che avevo fatto mi sono trovato indirizzato ad andare controcorrente, quindi a non ragionare di come si poteva trasformare questo territorio in un territorio analogo a quello che c'è a Torino, quindi un territorio popolato di grandi organizzazioni, ma a vedere in che modo questo territorio attraverso la sua modalità organizzativa specifica poteva, come dire, competere. E voi potete immaginare, ho cominciato a fare questo lavoro proprio nel momento in cui stava esplodendo questo modello organizzativo che oggi chiamiamo il modello dei distretti produttivi, dei distretti industriali. Quindi ho passato gran parte della mia attività a prima studiare, poi interagire, progettare lo sviluppo di questi sistemi. Poi mi è capitato di lavorare in diversi paesi del mondo e di vedere come questo modello organizzativo non fosse specifico nostro, ma fosse un modello organizzativo abbastanza diffuso, tanto che uno dei distretti industriali più interessanti, più studiati, che ha avuto l'evoluzione più grande e, come voi sapete, nella Silicon Valley, tra San Giuseppe, le fabbriche che fanno prodotti elettronici, computer, chip o oggi le apps, le applicazioni che fanno circolare le informazioni, sono tutte collocate al sud di San Francisco, in un'area appunto della Silicon Valley che ha come capitale San Giuseppe come riferimento, dove ci sono le università di Stanford, Palo Alto, Berkeley e dall'altra parte della Baia. Quindi, come dire, nel tempo ho avuto modo, girando il mondo, ho più di 3 milioni di chilometri sulle spalle, come molti nostri imprenditori, ho dovuto girare per il mondo per capire come è fatto e mi sono reso conto che il modello di sviluppo che caratterizza il nostro territorio non è poi così male, ovviamente deve essere aggiustato, sistemato nel tempo, adesso io sono stato testimone della grande esplosione della manifestazione, oggi stiamo entrando in una fase molto diversa in cui probabilmente le realtà produttive dovranno cambiare ancora, ma quello che posso mettervi a disposizione con la mia presentazione, mettervi a disposizione è il risultato di questa esperienza ormai 40 anni, 35, di attività di economista sul campo, di economista che si guadagna il pane tutti i giorni vendendo servizi, interagendo con i sistemi produttivi che conosciamo, poi nel tempo sono diventato anche professore ad onore, nel senso che sono stato invitato a tenere dei corsi in diverse università, vado a Udine, Venezia, adesso collaboro per l'Università di Venezia per cercare di riportare anche all'interno del nostro sistema diversitario le riflessioni e le scoperte fatte sul campo, per cominciare a modificare anche i testi, gli strumenti di lavoro degli studenti indicando loro che la strada della grande impresa che ancora oggi va per la maggiore viene ancora diciamo il mainstream, il settore principale degli studi che si fa in economia però è come dire un modello che può avere anche delle alternative, che non sono necessariamente o più avanti o più indietro, sono alternative in modi diversi. L'ultima cosa, io ho avuto modo di vedere come funziona il sistema giapponese da vicino, molti anni fa quando stava crescendo molto rapidamente, un sistema molto simile al nostro, ho avuto modo di vedere come funziona il sistema degli Stati Uniti anche quando non si sviluppa come un sistema di grandi imprese e mi sono fatto l'idea che non esiste un'unica forma di organizzazione industriale efficiente, un'unica forma di capitalismo, un'unica forma di organizzazione dello Stato, la migliore di qualsiasi, ci sono varietà di capitalismi, poi vi farò capire perché, perché in questo modo, varietà di capitalismi, modi diversi di organizzare le stesse cose che vanno bene in contesti diversi, ognuno ha il mix suo. Quindi come dire, a un certo punto mi sono anche trovato in difficoltà con la mia scienza, tra virgolette, che è nata proprio, l'economia è questo, è nata con l'idea di trovare, attraverso osservazione matematica, naturalistica del sistema economico, di trovare l'ottimo, il modo migliore, in assoluto, di combinare le cose e per strada mi sono trovato che anche lì, come dire, la strumentazione degli economisti classici, degli economisti, dei macroeconomisti, non mi serviva molto per fare il mio lavoro a ridosso delle imprese, dei comuni che voi qui rappresentate, degli enti locali, per stabilire qual è la strada che sviluppano. La scienza economica postula l'idea che ci sia una one best way, come si dice, un'unica strada e che tutti quanti prima o dopo arriviamo su quella strada lì che è l'ottimo in assoluto della combinazione delle risorse umane, in realtà ho scoperto che l'ottimo non esiste, che ci sono centomila varianti diverse, combinazioni diverse e questo, come dire, mi ha costretto ancora una volta a rompermi il muso con la mia scienza, che non serve, mi ritrovo costantemente ad arrampicarmi sul ghiaione framante per trovare degli antonaggi al mio ragionamento che non siano troppo aleatori, troppo confinati nel racconto di storie, di episodi che poi non aiutano le persone a trovare dei riferimenti, dei metodi da seguire, eccetera. Però questa è anche una considerazione conclusiva, se non capite niente di economia, se non vedete una strada dritta davanti, se non riuscite attraverso le letture che fate di notte a trovare la one best way per produrre lo sviluppo nel vostro territorio, state tranquilli che siete nella norma, cioè non avete perso niente, c'è da qualche parte, qualche economista diverso da me che potete chiamare e che ricorda in maniera matematica ai vostri problemi. Qui aveva ragione il povero Marx a dire che la storia si fa, cioè si può studiare, si può leggere, si possono trovare dei riferimenti, poi di volta in volta le storie, i modelli scientifici che vengono prodotti, le storie che abbiamo in testa vanno, come dire, recitate di nuovo e interpretate dalle persone che in quel momento si trovano ad assumere determinati compiti, determinati obiettivi come quello dell'agente di sviluppo locale e nel momento in cui tu cerchi di reinterpretare la storia di qualcun altro, quella degli americani, quella dei giapponesi, puoi dire interpretare oggi la storia degli italiani degli anni 80, quelli dei distretti, come dire, duri e puri e forti e comunque ti ritrovi, perché è l'essenza della storia, a riprendere un filo di ragionamento, una struttura narrativa, un copione che per forza di cose ti si sfarina fra le mani, ti porta a deviazioni continue rispetto al modello ottimo, rispetto alla storia ideale, alla buona pratica come spesso mi è. Dico queste robe qua per mettere le mani avanti del fatto che se siete venuti, per dire che se siete venuti qui, la parola di quello che è il sacerdote della regione più forte del momento, chi è l'economista che vi spiega in poche battute quale sarà il futuro di questo territorio, cioè quell'economista non so io, perché ho dovuto rinunciare nel tempo a questo ruolo di mate e di osservatore scientifico di leggi naturali che nessuno di noi, se non gli studiosi, riesce a controllare. State tranquilli. Nel frattempo, ecco, io volevo anche con questa presentazione un po' fantasiosa dirvi che sono qui disponibile anche nelle prime due ore, più che a fare una lezione o a illustrarvi la mia teoria, la mia idea dell'Alto Vicentino, sono disponibile a mettervi a disposizione tutte le cose che ho imparato in questi 35 anni di attività, 40 anni separato da quello studio sull'Alto Vicentino fatto nel 75 per il mio maestro e, come dire, ne parliamo insieme. Quindi, diciamo, approfittate fin da subito per porre delle domande a me, ma a tutti gli altri anche, come dire, questo è il momento. Tanto per scaldare l'aria io mi sono portato qualche mappa. Purtroppo l'immagine è, pensavo forse sarebbe stata un po' più grande, ma vediamo se riusciamo a vedere, vedrete un po' poco, ma si vede qualcosa? Tanto basta guardare i colori. Allora, questa è una vecchia mappa dell'Europa, per dire come io guardo il territorio, adesso partiamo dall'Europa, ma poi zoomando arriviamo anche dalle nostre parti qui e lungo il percorso spero di spiegarvi come osservo queste mappe. Questa è una mappa disegnata ancora moltissimi anni fa, nel 95, quindi vent'anni fa, da alcuni ricercatori che lavoravano con la Commissione Europea e quali hanno stato chiesto, vabbè, ma come è fatta l'Europa economica? Se noi dovessimo tracciare i confini delle varie aree europee che hanno una certa omogeneità al proprio interno, voi che colori utilizzereste? E il gruppo di lavoro ha prodotto questi colori qui. Dicendo per esempio c'è l'Europa che comprende Parigi, Londra, Bruxelles, tutta la zona della Roux, Francoforte, che è l'Europa delle capitali, che ha una forte omogeneità, cioè è il motore della cieca ancora, della comunità europea del carbone e dell'acciaio. È il territorio all'interno del quale è nata l'industria ancora nell'Ottocento ed è il territorio nel quale abbiamo grandi aziende, anche in Europa, grandi concentrazioni industriali, quindi grandi fabbriche, l'acciaio, la produzione è pesante, abbiamo grandi capitali, grandi città, vuol dire appunto Londra, Parigi, milioni e milioni di persone e immaginate anche nella zona della Rura, che lì non c'è una grande città, una metropoli di Fugia, pensiamo a Amsterdam, Denagen, Rotterdam. Dopo vediamo le caratteristiche di questa... qui c'è, vi leggo i dati velocissimamente, in quell'area centrale lì ci sono, all'epoca c'era un quarto della popolazione europea, 25,9%, il territorio era solo l'11%, quindi anche un territorio a elevata concentrazione, metropolitano per definizione, con un reddito pro capite, vi leggo io i dati perché non li vedo neanche là, superiore alla media europea, la media europea 100, in quell'area lì il reddito è a 116, quindi ci sono delle attività produttive, quelle metropolitane, soprattutto di terziario perché i servizi sono al 65%, erano nel 95%. Seconda area, quella dove siamo noi, ecco il resto ovviamente più i colori vanno verso il rosso e più abbiamo aree marginali con redditi più bassi, più difficoltà vedete il sud Italia, la Grecia, eccetera. Però c'è un secondo raccorpamento di territori come il nostro e del quale facciamo parte, abbiamo disegnato qui il Veneto, noi siamo proprio all'interno di quest'area, chiamiamola dell'arco alpino, scendendo dall'Italia giù fino alle manche, che all'epoca, vi dico i dati, è un territorio, anche questo, 12% del totale dell'Europa, quello delle capitali è all'11, questo è il 12, quindi più o meno una parte piccola, anche qui, e qui invece 15% della popolazione, quindi una densità molto più bassa, attenzione, reddito per abitante 122 rispetto alla media europea di 100, più elevato ancora, quindi nella zona dove siamo noi, questa in Maroncino, no, livelli diretto pro capite più elevati ancora di quelli che ci sono nell'Europa delle capitali, a Londra, a Parigi, parliamo del 95, densità più bassa, non ci sono grandi città, perché Monaco, come si dire, Milano, sono tutte città abbastanza piccole e c'è le montagne di mezzo, quindi un sistema anche dal punto di vista urbanistico, come dire, teoricamente svantaggiato, eppure qui, al contrario dell'Europa delle capitali, dell'Europa della prima industrializzazione, c'è la prevalenza di piccole imprese, quindi dimensioni di scala più piccole, dappertutto, è nel Baller-Utterberg come nel Stoccarla, dove ci sono appunto le grandi case, come questo che è la Mercedes, eccetera, macchie d'utenzione un po' come da noi, e parlo anche di Stoccarla, città, piccole, insomma, non è comparabile con Parigi Pobre. Qui la prevalenza è manifatturiera, o meglio, se il 65% dell'attività è qui, il 4% dell'agricoltura è qui, dalle nostre parti, il 40% è ancora l'industria, manifatturiera, dalle nostre parti, in tutta questa Europa dell'arco alpino era, e i servizi sono un percentuale molto più bassi, quindi una densità, una struttura sociale, organizzativa del territorio e delle città completamente diversa, ma un reddito più alto. Però la domanda, quindi noi ovviamente siamo i fortunati che vivono assieme a questi altri x milioni di persone del continente europeo in una condizione particolarmente favorevole. Attenzione, nel 95 poi le cose cambiano. Ragione del perché. Allora, lì, lo stesso gruppo che ha lavorato a costruire questa mappa si è domandato ma perché? Abbiamo questi due motori nel cuore dell'Europa che mobilitano, che pagano il 60% del fatturato, eccetera, e il resto rimane un po' più sparso. Allora, l'Atata, che è una struttura di ricerca come il CMR, una struttura di analisi dello sviluppo economico francese, ha provato a fare dei ragionamenti e ha prodotto questa mappa all'epoca, io l'ho apprezzata, che rappresenta, a detta dei ricercatori, il modo attraverso il quale si muove lo sviluppo, cioè come lo sviluppo tende a coinvolgere, a toccare diversi territori. E la loro idea è la seguente, che il sistema industriale, ovviamente noi siamo in una fase ancora oggi di sviluppo, orientata allo sviluppo industriale, quindi un certo tipo di organizzazione del lavoro, che era nata in Inghilterra, come tutti sappiamo, nella rivoluzione industriale dell'Ottocento e poi un po' alla volta, come dire, questo modello di organizzazione dell'economia e della società ha cominciato a contaminare i territori più vicini, proprio per relazioni, all'epoca c'erano dei trasporti diversi da quelli di oggi, ma come dire, lo sviluppo, come dire, secondo questa mappa, come dire, investe, parte da un polo e piano piano investe quello che c'è intorno. Allora c'è tutta una prima fase che è rappresentata da questa banana che scende fino al triangolo industriale italiano, quindi Torino, Genova e Milano che sono stati il cuore della prima industrializzazione dove c'era la nostra industria pesante per varie ragioni, questa banana insomma dà l'idea che si sia formata nel tempo partendo dall'Inghilterra contaminando la Rur e, come dire, convincendo territori, per contatto diretto, territori diversi a entrare dentro un certo tipo di organizzazione, prendendo i capitali che servivano per fare le grandi fabbriche eccetera. A un certo punto, come dire, questo primo innesto di sviluppo è, come dire, si è fermato, ha cessato la sua funzione, anche perché ormai acciaio ha cominciato a alzio a farlo, sono comparsi gli Stati Uniti come concorrenti eccetera, diciamo che avevano meno bisogno di elementi di base, è partito, come dire, un secondo, dopo il secondo dopo guerra, una seconda fase invece nella quale è partita l'industria leggera, quindi l'industria che poi ha fatto forte il Made in Italy, quindi i prodotti per il consumo di massa, l'abbigliamento, i prodotti da vendamento, fare le case, è cambiato il modo di vivere eccetera. Quindi dopo una prima fase in cui lo sviluppo è stato guidato da capitali pubblici prevalentemente, in Italia di sicuro, noi qualche volta capitali privati per fare la grande industria per la volta, dopo quel momento lì, nella seconda parte del secolo scorso è partita invece, come dire, sempre per contaminazione, un'ondata di sviluppo che ha coinvolto piccole città, piccole società locali, piccoli produttori capaci di investire invece che milioni di euro, centinaia di migliaia di euro e anche meno e piano piano si è aperta una finestra nella quale si sono inseriti non solo i territori italiani del corso della terza Italia, quindi per tutta una fase i veneti andavano a lavorare a Torino e a Milano eccetera, ma a un certo punto questa cosa si è fermata nel secondo po' guerra, primi anni 70, abbiamo cominciato a lavorare qua, a investire qua e abbiamo imparato a fare industria per soddisfare la nuova finestra di consumi di bisogni che si è aperta in Europa e nel mondo e siamo diventati quello che siamo diventati, e un po' alla volta abbiamo cominciato a contaminare i territori circostanti, vedete queste frecce, quindi come dire, abbiamo per contaminazione cominciato a coinvolgere nel nostro modello di sviluppo altri territori, noi verso l'est, ormai sono passati molti anni, ma alla fine degli anni 90 è cominciato tutto il flusso delle localizzazioni verso la Romania, prima per il settore calzaturiero, poi tutte le attività che sono andate in Slovenia e in altre parti verso l'est, ma la stessa cosa è capitata per esempio in Catalogna, al sud della Francia, verso Valencia eccetera. Allora, come dire, questa prima immagine ci dà l'idea che noi come territorio, questa è un'immagine ingrandita sempre dell'epoca del 95, come territorio siamo alla conclusione di un processo di sviluppo per contaminazione come quello che vi ho indicato fino a poco fa, adesso ci chiediamo cosa succederà dopo, qual è la prossima onda e come si sta formando e di che forma avrà, se continuerà questo processo di contaminazione come abbiamo visto in passato, oppure se ci saranno nuove modalità per organizzare le nostre attività quotidiane, però diciamo nel 95 voi vedete questa immagine, che cosa diceva questa immagine? Diceva che il nostro territorio, che è il Veneto, questo qui, era parte del motore emergente dell'economia europea, pur avendo piccole città, piccole imprese e tutto quello che c'era dietro, però il nostro territorio riusciva a spiegarsi come mai poteva permettersi di livelli di reddito molto alti, crescita e occupazione in una società, tutto sommato abbastanza solidale, perché si dice appunto che faceva parte di questo territorio emergente contaminato dalla prima onda di industrializzazione e capace poi di interagire con altri territori e che è un territorio che si colloca al centro di una rete di relazioni particolarmente favorevoli con il cuore dell'Europa, non solo con il centro delle capitali che ha cominciato a comprare i nostri prodotti, ma anche con i centri di fornitura che stavano emergendo nei paesi a costo del lavoro un po' più basso. Cosa sono quelle immagini, quei flussi in rosso? Sono, come dire, i flussi di traffico, sono flussi in rosso che mettono assieme il traffico delle merci e anche il traffico delle persone che viaggiano non solo per lavoro ma anche per turismo. Uno guarda questi flussi e dice, beh, questa è Verona, sono fortunatissime perché sono al punto di incrocio di due fiumi di traffico tra i più poderosi che ci sono in Europa. Mettendo insieme questa rete di flussi mi pare che si arrivava al 25-30% del totale dei flussi in traffico commerciale e turistico d'Europa. Acqua che passa, pesca e pesca e quanti ne vogliamo. Se voi date un'occhiata, vedete questo rivoletto qui verso Trieste, all'epoca che cos'era? Stato per dire le macche cosa ci racconta. Questa è una fotografia scattata nel 95, prima che esplodesse il sistema di relazione anche solo con la Romania. Con la Romania noi commerciavamo nel 95 per i prodotti in pelle. Verona commerciava, che ne so, per 10 miliardi. Nel 2000 era 10 volte tanto, 100 miliardi. E voi sapete oggi uno dei... cioè si sono forse asciugati un po' questi rivoli e si è ingrossato in maniera straordinaria invece il rivolo dei flussi di traffico di relazioni verso Est. Oggi se c'è un'autostrada intasata è quella che va la Palloa-Vicenza verso Trieste. A Trento già si corre. Io ho lavorato cinque anni, a Trento non ho mai fatto conto sulla A22. Più volte abbiamo detto che sono preoccupato di chi pagherà poi la Valdastico Nord quando l'apriremo. Perché bisogna fare i conti sul fatto che noi siamo molto lenti nel approvare progetti di infrastruttura. Perché arriviamo sempre 50 anni dopo quando il mondo deve cambiare e quindi come dire andiamo a fare gli investimenti e il posto è sbagliato e magari gli investimenti è quello. Però ecco, questo è per dare delle prime immagini che ci portano a dire questa era la situazione nel 95, 20 anni dopo, dove siamo? Se io penso a quello che immaginavo nel 95 io continuavo a immaginare una crescita di questi flussi soprattutto verso Nord, il fatto che noi Veneti avremmo lavorato sempre più con la Germania, sempre più con la Francia, sempre più... l'Est era una cosa ancora lontana, cioè non mi immaginavo che saremmo cresciuti in quelle direzioni. Noi andavamo verso il futuro un ricordo, un'immagine del passato, non parliamo dei modelli degli economisti, dei modelli statistici che vengono sempre proiettati al futuro attraverso le serie storiche, come se le serie storiche, basta fare come dire una rete di correlazione o di regressione e ti dicono esattamente dove sarai nel mondo futuro. Le serie storiche dell'epoca ci dicevano appunto che il problema era fare le dati, parliamo del 95. Anni dopo sappiamo che non è andata così, tanto per tornare al discorso dei modelli. avevo qualcosa da dire ma mi verrà in mente. Arriviamo a noi. Questa è la mappa, una ulteriore mappa del Veneto, sempre prodotta all'epoca, che rappresenta la nostra regione. Allora, all'epoca io ero tra i pochi che diceva, ma guardando questa mappa qua, facevo anche dei confronti, adesso purtroppo non ce l'ho, guardando la mappa del Veneto e confrontandola con quella di Los Angeles, all'epoca io dicevo, beh c'è la stessa roba, nel senso che anche anche a Los Angeles è una grande metropoli dove non c'è la metropolitana, dove la gente si sposta in automobili, attraverso le autostrade, come facciamo noi per andare da Palo a Vicenza, a Montpellume eccetera. È un territorio di 100 km per 100 km più o meno come il Veneto ed è un territorio caratterizzato come area metropolitana da quartieri importanti come quelli che sono proiettati su questa mappa, che adesso vi riassumo che cosa sono, cioè che cosa possono essere quelle macchie sulla mappa del Veneto allineate prevalentemente lungo l'asta della pede montana. Sono le zone industriali, anzi sono i distretti di cui parlavo prima, i distretti, così come a Los Angeles nella parte nord c'è Hollywood, c'è il quartiere, non c'è solo Beverly Hills Boulevard dove ci sono le case degli artisti, ma ci sono tutti gli studios, c'è un distretto industriale del cinema diffuso in cima alle colline perché se voi andate a Hollywood, come dire, andate negli studi in cui si registrano le puntate televisive, nella sede del sindacato degli attori, vai a trovare il regista che sta scrivendo la sceneggiatura di un pezzo, li trovi esattamente come accade da noi, come andare all'asolo, uno che abita a Amazon, peraltro in cima all'asolo e come dire, lavorano a quella che è l'industria del cinema, sì, poi ci sono anche gli Universal Studios, ci sono i teatri di posa, di registrazione come Cinecittà, però il resto del sistema è distribuito, adesso che poi non c'è più bisogno di grandi lavoratori di posa, è ancora di più un territorio simile al nostro. Invece di avere Hollywood, noi cosa abbiamo alle parti di Belluno? All'epoca c'era tutto il distretto dell'occhialeria, che poi è diventato una fabbrica sola, quando Luxottica ha deciso di fare l'inquestimento strategico della sua vita, di comprare i negozi e a quel punto condizionando il resto del sistema. Prima che nel 1995 partisse Luxottica a fare questo tipo di scelta, c'era appunto un grande distretto bellunere, soprattutto nel Cadore, erano piccati su per le varie Cadore, c'erano centinaia di aziendine che facevano chi la montatura, chi le vitine, tutte quelle cose. Quindi, come dire, una grande fabbrica all'epoca di due o trecento reparti con dieci, dodici mila persone che ci lavoravano. Scendendo giù verso Treviso, qua ce ne sono solo alcune delle maglie, poi arrivo anche l'altro vicendino, c'era tutto il distretto del mobile, cosiddetta sinistra piave, a scavalco, tra l'altro, qui c'è un pezzo che va verso Pordenone, avete sentito che Pordenone vuole, a questo punto, che sono saltate le province per parte del Veneto perché si trova più a ragionare con Treviso sul mobile che con l'Undine. Qui c'è tutta l'area della produzione di immobili di Treviso, c'è questa macchia qui e anche lì sono, c'erano due o trecento stabilimenti, un po' come a Maniagosi per le sedie, con dieci, dodici mila persone, quindi una fabbrica da dodici mila persone sparsa nel territorio ma con una capacità produttiva pari al 20% della produzione italiana di immobili. Montebelluna, capitale mondiale all'epoca dello scarpone sportivo, delle calzature sportive, il grande laboratorio dentro il quale non potevano mancare i grandi operatori internazionali, ho fatto un studio e scritto un articolo di Montebelluna, proprio in quel periodo lì, per il comune, per il museo dello scarpone, eccetera, e all'epoca ovviamente c'erano tutti i grandi operatori internazionali erano presenti lì, Lange, Salomon, Sporn, tutti quelli lì che sappiamo, anche lì c'erano sei settecento aziende, poi vi racconto come si è evoluto quel sistema, sei settecento aziende con più di 12-13 mila persone, quindi un grande laboratorio per la produzione di calzature sportive, all'interno del quale piccoli gioiellini come l'Oima o l'Everest venivano comprate per cifre spaventose, voi dite ma che cavolo è l'Oima? Cos'è l'Oima? L'Oima? Officine, meccaniche, no, Olivieri, Oima, Olivieri, Icaro, macchine e affini, chi è Olivieri Icaro? Icaro Olivieri è quel signore che venendo da Torino e sapendo come si faceva con la tecnica del mosaico, la progettazione degli stampi per le fusioni metalliche, all'epoca, è arrivato a Montebellone e ha spiegato come con la tecnica del mosaico si sarebbero potuti fare, come dire, le prime forme degli scarponi attorno alle quali poi fabbricare lo stampo in anciaio per le produzioni in serie, è quello che ha brevettato la macchina ad iniezione verticale che è ancora oggi brevetto italiano e che, come dire, ha difeso i produttori italiani di scarponi da sci iniettati, facendo vincere l'industria italiana tra l'altro nei confronti di Bob Lange che per primo aveva brevettato un meccanismo per fare gli scarponi Bob Lange, che era californiano, di Colorado Springs del Colorado, è stato il primo a avere l'idea di fare uno scarpone in plastica, non siamo stati noi italiani e aveva un sacco di soldi, un sacco di finanziamenti, un sacco di ricerca negli Stati Uniti per sviluppare il suo rotto, però faceva gli scarponi come le uova di pastora, cioè le corpolavano la metà del qua e la metà dell'albo e li metteva assieme. Per fare un paio di scarponi ci metteva una settimana. Sono stati i nostri, proprio Icaro Livieri, Aldo Baccari, che era presidente dell'Adomite all'epoca, che hanno detto, no, per fare quella roba lì, meglio usare le macchine a iniezione, quelle che usiamo per stampare la plastica, che si fa prima se ne fanno di più, però la plastica che serviva per fare gli scarponi, che erano piuttosto duro, non si riusciva a estrudere con le macchine orizzontali tradizionali, ha dovuto, come dire, inventare, mettere la macchina in verticale perché avesse la forza per estrudere, attraverso il sistema di iniezione, il granulato che la Bayer produceva per questo tipo di scarponi. Icaro Livieri nel 1995 ha venduto alla Nike la sua aziendina, questa Oima che aveva il brevetto più un'altra azienda, Bauer, che fa protezioni per Lockei, per la bellezza di 625 milioni di dollari. Mi ricordo ancora perché il giorno dopo che ha venduto l'azienda, a parte che camminava a 20 centime di un metro sopra l'asfalto, dopo si è trasferito a Monaco e credo che sia ancora là che spende gli ultimi milioni di euro, 625 milioni di euro per un'azienda da 100 dipendenti, pagata cash dalla Nike, perché? Perché appunto dentro uno è come comprare l'Intel, l'azienda che fa i chip all'interno del distretto produttivo dei computer della serie formale. Se tu hai in mano l'Intel, hai in mano il sistema. Quindi quel reparto lì, quel reparto di progettazione, quella piccola aziendina che dal punto di vista dei libri di economia vale niente, però dentro un sistema produttivo che ha una sua omogeneità vale un sacco di soldi. Ho fatto una digressione, ma per dire che insomma guardando sta mappa metti il Monte Belluna, qui c'è l'area di Bassano, mobile, ceramica, all'epoca ancora qualcosina si faceva molto poco, a Vicenza c'è la gioielleria ovviamente, nel nostro territorio c'è tutta la meccanica che produzione di macchine, macchine utensili, macchine per la lavorazione del legno, macchine alimentari, macchine per la lavorazione del marco eccetera, tanto che poi il territorio dell'Alto Vicentino, al suo interno c'è dei mini distrettini, cioè dire che Marano è la capitale del pane, è la capitale della farina, siete guardi Marano no, è come dire, significa raccontare il modo in cui funziona questo meccanismo, tu hai appunto, hai avuto, come si chiamavano le aziende? Roberto Sottoriva, che all'epoca avevano creato decine, centinaia di tecnici di alta qualità capaci di fare le loro macchine, come dire, ha insegnato a questi tecnici non solo dei standard di produzione, di educazione industriale dopo averli tirati su dalle campagne, dalla loro mezzadria, averli trasformati in imprenditori, ma gli ha dato anche, come dire, l'idea per aprire nuovi rivoli appunto per contaminazione, nuovi settori, nuove branche industriali eccetera, e questi si sono messi a fare rimanendo in contatto fra di loro, continuando a fare laboratorio, dopo un po' la tramoggia della farina si ingruma e la farina è sempre quella, poi si è sporca, è ora uno che si inventa una macchinetta che fa girare la farina dentro la tramoggia perché non si ingrinca qualche quando devi sparare e via così, ci sono per problemi, soluzioni, contaminazioni continue eccetera, tu hai appunto, puoi immaginare come funziona lo sviluppo, lo puoi anche raccontare, marmola le parti della colicella e a Padova tutto il discorso della calzatura di alta qualità, qui c'è un po' di calzatura, Arzignano, io adesso sto lavorando, sono presidente della filiera del consorzio che rappresenta la filiera dei produttori conciari, compresi quelli che fanno macchine, prodotti chimici, i depuratori eccetera, questa è come voi sapete quella strisciolina che non mangiare, questa strisciolina nera qui è la capitale mondiale, una delle capitali mondiali della pelle come sapete, 400 mila tonnellate di pelle, 400 mila, se volessi una cifra di pelle lavorate ogni anno, con una capacità produttiva di circa 12-13 mila persone, la cosa importante è che queste persone, come nell'esempio che facevo prima per la meccanica del lato vicentino, come dire, lavorano nell'industria della pelle, in reparti diversi del ciclo produttivo di lavorazione della pelle, solo che questi reparti non sono tutti collocati all'interno di un unico grande stabilimento con un unico consiglio di amministrazione, ma sono distribuiti nel territorio, nelle case degli stessi lavoratori, nelle piccole aziende degli stessi lavoratori che fanno le varie fasi e che sono proprietari e investono sui macchinari e sulle tecnologie di cui hanno bisogno per fare il lavoro insieme con gli altri, quando io faccio vedere questa mappa, ho fatto vedere questa mappa, niente, i compitori della Silicon Valley, è come qua, è come da voi, anche noi abbiamo delle grandi fabbriche, delle grandi organizzazioni efficienti che sono fatte di 10-15 mila persone da una fabbrica per fare scarponi o diversi tipi di calzature, una fabbrica per fare mobili, una fabbrica, hanno tutte quella dimensione lì, sono tutte da 15-20 mila persone concentrate in un territorio, sai qual è la differenza? Che non sono tutti quanti sotto lo stesso campanone, che non sono tutti quanti a libro paga di uno, che non vengono finanziati soltanto da una banca o soltanto da un sistema, ma è come dire, si dividono le responsabilità di investimento, le scelte tecnologiche, le scelte organizzative, barufa la mattina e la sera ma alla fine, come dire, sono sistemi fortemente partecipati, fortemente partecipativi, che poi alla fine riescono anche a distribuire gli utili, in ragione degli investimenti fatti, con delle ovviamente differenze che danno origine a scazzottature quotidiane, perché il mercato non è un ottimo regolatore, ma vuol dire che il sistema gerarchico, il sistema organizzativo, seppure con la lead production, sia migliore nelle grandi organizzazioni. Quindi io posso dire, guardando questa mappa, che già nel 1995 si intravedeva la sagoma di un sistema metropolitano capace di competere con i mercati internazionali, alla pari del sistema metropolitano di Monaco, di Los Angeles piuttosto che di altri territori di questo tipo, con i suoi quartieri, con una identità molto forte, molto, no, anche chiaramente identibile, con un problema rispetto ai sistemi metropolitani di altre parti del mondo e che è un sistema che pur essendo efficiente dal punto di vista della manifattura, dell'organizzazione sociale e di tutto, però manca di una componente fondamentale che in una metropolitana, che è un sistema istituzionale, un sistema di servizi pubblici, organizzato a misura del metropolitano, abbiamo un'area metropolitana che compete con tutto il mondo con le sue grandi fabbriche, sia pure di tipo anomalo, ma abbiamo un sistema amministrativo ancora progettato da Napoleone a misura di piccoli paesetti fatti di mezzandri o di piccoli o di piccoli paesetti. Ho fatto una sintesi, adesso l'ho tirata a lungo, ma ho fatto una sintesi convincente del problema, il problema che abbiamo adesso noi è questo qui, che fino a qualche anno fa, appunto fino alla fine degli anni Ottanta, quando ancora la Cina non si vedeva, quando l'Europa era ancora i primi passi, fino a qualche anno fa noi continuavamo a pensare in termini nazionali di modernizzare il nostro sistema amministrativo investendo sui comuni capoluogo, cioè le province. Noi avevamo un'idea che per essere un paese moderno, un paese di altri, era sufficiente fare le scuole tecniche, le scuole superiori a Vicenza, Padova, a Treviso, non a Schio, nonostante ci fossero. La prima riforma importante del nostro paese, che andava in questa direzione a metà degli anni Ottanta, la riforma della scuola superiore, che appunto è quella che ha chiuso i laboratori, che ha cambiato radicalmente il nostro modo di pensare e il sistema formativo, ha concentrato nei capoluoghi una serie di investimenti, ha, come dire, portato l'idea che addirittura ogni capoluogo dovesse avere la sua università, no? Vicenza che, litigando con Padova, con Verona, ha tentato di mettere in piedi la sua università, che ci dovesse essere un centro intermodale, quindi un autoparco, un interporto, un po' in tutti i capoluoghi, e che questo tempo, quell'autostrada e l'altra velocità, ti hai fatto tutto, hai modernizzato il paese. Allora, se noi pensiamo a questo modo di lavorare, vediamo che gli investimenti si concentrano in questa area centrale della metropoli Veneta, magari producono dei risultati interessanti, come sta succedendo a Vicenza, adesso lì c'è una serie di investimenti sui servizi che non sono male, però, come dire, è come dire che a Los Angeles tu concentri gli investimenti, la pianificazione e lo sviluppo soltanto nell'asta che va da downtown, dal centro della città, Santa Monica sulla costa, non passandoti neanche per la testa di fare qualcosa nel distretto del cinema a nord, piuttosto che quello dei teatri e della musica jazz al sud. Noi abbiamo fatto così, siamo concentrati, siamo pure la che litigiamo per fare Vivro, la Vicenza, ma nel senso Vicenza città, con Verona città, con Rovigo, contro Padova città, Treviso città e Venezia, contro il resto del mondo. Dico bene? Allora, vuol dire, non è un modo di pianificare un'area metropolitana che deve competere e che ha, diciamo, i suoi quartieri più importanti fuori da quell'asse lì. Tu non puoi costringere, no, i cittadini schio, i cittadini dell'arte padovana a far costantemente riferimento a, come dire, le risorse dei capoluoghi, quando la loro identità, il loro modo di essere, di lavorare, come dire, o rendere la vita di quelli che sono a Darzignano impossibile se volessero raggiungere Montebelluna, perché oggi è impossibile raggiungere Montebelluna, per ragionare di come fare la pede sostenibile con l'ACU o con gli altri colleghi che vogliono fare qualcosa di interessante nel settore delle cazzature da trecchi e costringere appunto tutto il sistema ad essere, a tornare sugli app di Vicenza, Padova e dopo tornare su. Infatti non a caso l'unica infrastruttura, l'unica che ha senso, secondo me, è proprio la pede montana perché è quel pezzo che manca e che consentirebbe a questo quartiere di distretti di ragionare non solo in termini di rete scolastica ma anche in rete di relazioni proprio tra persone che non siano appunto interrotte da... vi mostro questa immagine, è ancora piccola purtroppo, è una mappa, questa è molto più del centro del Veneto che dà l'idea di quali sono le maggiori concentrazioni di popolazione, rosso e giallo sono le macchie più importanti e quali sono gli spostamenti sistematici nei collegamenti giornalieri, quindi diciamo i pendolarismi. Ovviamente vedete che Verona sta un po' per conto suo, tiriamola da una parte per il momento, poi voi avete una fortissima densità e intensità di relazioni tra Padova, Venezia e Treviso, questo è il downtown nel mio linguaggio dell'area metropolitana del Veneto, dove si concentrano gli aeroporti, gli uffici, le università e c'è una maggiore intensità proprio di relazioni quotidiane. Poi c'è Vicenza ovviamente che è un nodo importante, fortemente concentrato con una serie di relazioni in internet e poi avete di nuovo ecco qua, questo è il territorio che ci interessa, abbiamo Arzignano, Valdaglio, Schio, Tiene, Bassano, Castelfranco Veneto, Monte Belluna, tutto questo quartiere, ripeto, che è il cuore manifatturiero dell'area metropolitana, che invece è come se non esistesse dal punto di vicenda, che ha la concentrazione di attività produttive di residenti, ma appunto per l'assenza di un piano di interazione, cioè come dire, è un quartiere nel quale le relazioni sono ridotte al minimo e pensare, appunto, ripeto, faccio solo l'esempio dei produttori di pelle della Valle del Chiampo, che avrebbero molto da dirsi con quelli in Monte Belluna e che per anni non si sono potuti parlare, proprio perché andare a Monte Belluna a Ciampo vuol dire è peggio che andare a Roma, cioè pensare che un sistema di relazioni di questo tipo fra industrie, non sia stato pensato, è uno dei grandi ritardi, che forse oggi la pedemontana riuscirà a ridurre. Il mio amico Gigi Schiavo mi diceva, siccome io devo andare a mare spesso, cosa che dovrò fare anch'io fa un paio di lunedì, l'aeroporto migliore per i voli è quello di Treviso. Pensa, dissi che forse è che la pedemontana, no? Lado in 20 minuti, in mese a ora, adesso mi tocca fare 160 km con tutto quello che ne consegue dal punto di vista dell'inquinamento dei costi, eccetera. Allora, io ho fatto una corsa molto veloce per arrivare al punto, che è questo. Come facciamo a immaginarci il futuro? Io ho raccontato la storia del passato, gli economisti sono bravissimi a raccontare la storia del passato con dovizi particolari, poi gli fate la domanda, benissimo, Monsignore, siamo tutti Monsignori, adesso che lei ha ricostruito così bene le vicende del passato e ci ha spiegato con tutte le statistiche di quello che è successo fino a ieri, perché cambia, mi sa dire che cosa succederà domani? E gli economisti rispondono, no, quindi non lo sono. E allora uno ci ha poi e dice, ma scusa, ma la tua scienza del picchio cosa serve a raccontarmi quello che è già successo? Se non mi serve a immaginare il futuro, a capire cosa devo fare domani, come mi devo muovere, cosa serve? Io credo che nel fatto che per tanti anni non abbiamo riconosciuto il nostro territorio come un territorio metropolitano, c'entra molto il fatto che la maggior parte degli economisti, la maggior parte degli insegnanti delle università e dei nostri dirigenti politici quella mappa lì che mi testa dal 95 non la vedevano, io ce l'ho lì e l'ho fatta vedere tante volte, ma non la vedevano, era fuori dal loro schema, dal loro schermo. Allora, domanda di nuovo, ma come facciamo a immaginarci il futuro e a mettere in campo le infrastrutture e i servizi che sono necessari per fare in modo che il futuro moderno che tutti noi vogliamo per i nostri figli eccetera, si realizzi? Allora, non bisogna ascoltare gli economisti, non ha senso andare a vedere le grandi ricostruzioni e minuzioni di quello che è capitato come ho fatto io oggi, ha senso perché dà un'idea del movimento e della fatica che bisogna fare per guardare al futuro, ma si ferma solo lì, non c'è nessuna retta di, nessuna regressione no, retta di correlazione che possiamo tirare per dire dove andremo a cadere fra qualche anno. Cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo liberarci dalle storie che ci raccontiamo, per esempio una delle storie che più ci ha corrotto nelle nostre decisioni, radicatissima a tutti i livelli non solo dentro le facoltà di economia ma anche dentro le amministrazioni pubbliche a livello nazionale, locale, è l'idea che l'Italia stia inseguendo paesi più avanzati e che quindi, come dire, dobbiamo copiare dagli altri, facendo anche noi qui quello che hanno fatto gli altri. Questa è, per esempio, una delle prime, allora, ho scritto, mi sono permesso di scrivere un articolo sul giornale di Vicenza che ogni tanto offrite i miei, ogni tanto, non so se avete capito, i miei pensieri, ho detto, ah, Metropoli, cos'è il titolo? Me l'ho messo anche giusto, Metropoli, Pedemontana, Pedemontana Metropoli, ma perché è finalmente adesso che cascano le province, adesso che ci rendiamo conto che non c'è più una lira, che tutti i soldi che abbiamo messo nelle infrastrutture di modernizzazione, come dire, sono evaporati, ci hanno lasciato solo debiti e nessuna risorsa utile, allora, come dire, cosa è successo qualche tempo fa, le associazioni di Vicenza, Padua e Treviso hanno detto, boh, gli associati possono comprare i servizi dove vogliono, facciamo una specie di concorrenza interna, uno è associato a Vicenza, ma c'è un funzionario bravo a fare i servizi sull'estero a Treviso, può andare là, quindi si sono rotte le barriere provinciali tradizionali per, come dire, mettere a disposizione degli utenti di servizi più qualificati. E tu ancora oggi c'hai le discussioni che dicevo prima su come rifare questo tipo di scherzo magari con le USL piuttosto che con gli ospedali, piuttosto che con l'università con altre cose. Domanda, ma è mica arrivato il momento che le persone che vivono in quel quartiere lì non comincino a darsi anche delle strategie comuni, a prescindere dai propri capoluoghi di riferimento, se ha senso il ragionamento che ho fatto io, ovviamente è uno dei ragionamenti, uno può dire, no Paolo, lascia perdere, ormai la manifattura non c'è più, i distretti non ci sono più, questa che era il cuore manifatturiero di una volta fino al 95, dimenticatelo, è un quartiere che ormai si sbreccia, è pieno di aree industriali vuote, non ha futuro, sto esagerando perché io penso il contrario, ma a saperle concentriamoci a vedere come irrobustiamo le aree più pulvarizzate in modo tale da almeno lì resistere in un sistema che si sta un po' sfruttando. Ma se solo questa riflessione non sta in piedi e il sistema manifatturiero più o meno modernizzato dal punto di vista delle tecnologie, guardo la mamma del maker che è diventata ormai l'evangelista della nuova manifattura, no? Se invece appunto ha senso ragionare di nuova manifattura e magari di nuovi flussi turistici, ne parlavo prima con lui, di un tipo che nessuno ha mai ancora visto in giro per il mondo, perché oggi i flussi turistici sono cittadate o colline, contrade, posti per divertirsi. Qualcosa a Dubai c'è di turismo commerciale nel senso che la gente va a Dubai per comprare bene perché lì ci sono i computer che costano meno, ci sono tutti i gadget più innovativi, ma come dire Dubai è una roba strana. Potrebbe anche nascere attorno ad una rivitalizzazione dell'industria manifatturiera con prodotti sempre su misura, sempre più tecnologici, sempre più artigianali, sempre più maker, no? Potrebbe nascere anche un turismo, abbiamo 9 miliardi di persone in giro per il mondo, 500 milioni che sono disponibili a pagare anche tanto, un turismo verso questo territorio italiano adeguatamente ripensato e ristrutturato per venire qua, stare una settimana a girare per Marano per comprare macchine palpà o capire come devo mettermi insieme alla catena di magnifici in Cina e intorno avere 10 opportunità di non solo Venezia, andare a sciare, a Ziavo eccetera, ma di vedere altre cose anche proprio nei quartieri produttivi dei capanoni. Chiaro che così i capanoni, come dire, non solo sono brutti da vedere e poco invitanti per il turismo, ma anche quello tecnologico, anche quello che guarda a quello che c'è dentro il capanone, ma soprattutto sono poco utili perché non ti guidano nel tuo cammino turistico. Quando tu vai in montagna c'hai le cime, c'hai i sentieri, c'hai i gusti, c'hai dove andati. Quando vai nelle città d'arte, magari nel labirinto di Venezia, ti diverti a perderti e a giocare al labirinto, però hai dei percorsi e riesci a riconoscere se sei grazie a San Marco invece che a San Giobbe eccetera perché te vanno. Quando sei in un territorio in cui ci sono capanoni un uguale all'altro, l'orgereo gusto, ti perdi nel senso che non puoi orientarti, non capisci dove sei, non capisci come muoverti, no, sono suggestioni ovviamente, non sto vendendomi una teoria del turismo che non ho. Ma questo è per dire che se i cittadini e gli imprenditori che vivono in questo quartiere, che viene dalla storia manifatturiera come quella che vi ho raccontato, che ha dei problemi grossi dal punto di vista delle attività dei comuni, le IPA, del famoso Veneto centrale che il nostro amico Luciano Gallo verrà qui a discutere con voi tra poco, le scuole eccetera. No, se i cittadini che vivono in questo territorio, i sindaci, i dirigenti delle grandi industrie, cominciassero a ragionare del futuro di questo territorio pensando come un quartiere metropolitano, come un territorio che deve modernizzarsi e diventare visibile e riconoscibile come i mall, come si chiama, come le strade chiavi di Milano sono riconoscibili nel sistema della moda, via della Spiga, Monte Napoleone, no, qua la pedemontana più che anche qualche altra strada possa diventare l'evento riconoscibile di un pezzo di mondo che vale la pena di visitare. Allora, che cosa dobbiamo fare per raggiungere questo obiettivo? Che storia ci dobbiamo raccontare, che storia turistica dobbiamo raccontarci per riuscire a produrre l'innovazione che ho adesso in maniera molto succintamente esposta. È chiaro che non ha senso pensare in questo territorio a rimettere in piedi sistemi turistici che ormai sono, cioè, mettere in piedi ancora agriturismi, adesso mi sono rotto le scuole a ragionare con loro che hanno le terme, a recuaro, perché non si sa come cavolo gestirli. Inutile, come dire, pensare di ripercorrere anche qui, è una battuta che ci siamo fatti l'altra sera, il discorso dei vendi, come si chiama, dei prodotti unici, dei prodotti, come dire, del vento, eccetera. Ci sono miliardi di posti nel mondo in cui ci sono prodotti unici e uno sceglierà, magari verrà anche qui, diventeremo anche più bravi noi dei veronesi invece di dare la Peara che venderemo la soppressa dei, come si chiama, dei vagli e Pasubbio. Però voglio dire, è niente in confronto alla possibilità di inventare una nuova via molto Napoleone, cosa che non è mai successa, dentro la quale il turista cinese viene, va a vedere la fabbrica del pan, si porta via la farina, si porta via il pan, dopo fa un altro tocco, arriva a Montpelluna, si compra le scarpe e dopo se sta qua un mese va a casa, quei paesi è pieni. Che è un tipo di turismo che oggi non esiste e che non so neanche se esisterà mai. Però preferisco ragionare fuori dai percorsi vecchi, fuori dai filoni, dalle buone pratiche che nelle nostre associazioni continuiamo a ripeterci come riferimento, i modelli già che hanno avuto successo. Sono, come dire, più portato a provare, a ragionare contro, a darmi la possibilità di fare dei ragionamenti fuori dai santi, come quello che stavo facendo adesso, per cercare di immaginare assieme un futuro per questo territorio che non è scritto in qualche modello matematico, non è scritto nelle leggi naturali che gli arruspici dell'economia possono individuare per chi li studia, non è scritto nei limiti di storia, ma ce l'abbiamo qua noi e o riusciamo a raccontarcelo e a farlo diventare poi realtà oppure semplicemente non esiste e non esisterà mai. Allora come si fa a incamminarci a fare un lavoro collettivo per cui ci incamminiamo insieme a raccontarci una storia credibile che dopo fra un po' mogliamo per una prima volta e comunque mantenere il passo, muoverci, senza rimanere intrappolati prima ancora che nelle burocrazie, nel fatto di stabilità e tutte quelle robe lì, proprio nelle storie che ci raccontiamo sul modo in cui fare sviluppo, su cui impostare l'azione dei nostri comuni eccetera. Questo è il problema principale attorno al quale, per le cose che vi ho raccontato all'inizio di questa lunga concione, queste sono le domande principali che mi sto domandando oggi. Dopo che ho buttato via i miei libri di economia che mi dicevano trovo e punto di conto fa la domanda e l'offerta e teghe trovare quello che succederà domani e non è vero. Dopo aver buttato via i manuali di organizzazione che mi dicevano che bisogna organizzare tutte grandi aziende perché ora si teghe il massimo di efficienza e li ho buttati via perché questa cosa non si è verificata né in Italia né negli Stati Uniti. In Italia noi abbiamo vestito metà il debito pubblico sull'Olivy ed era una grande azienda, è anche ben gestita, è fatta la prima a fare un sistema operativo dei computer. Cosa è rimasto dell'Olivy? Dopo niente, perché le stesse persone che ci lavoravano sono andate nella serie mondiale, non sono più qua, fagini e compri. Cosa è rimasto della, per fare un esempio un paio di acquisto? Cosa è rimasto dell'IBM? Quando è partita la Silicon Valley dei ragazzetti lì, mi chiamano Steve Jobs e Bill Gates e quei bravi alcuni, i manuali di economia dicevano che non era possibile che questi facessero la fortuna che hanno fatto. Zuckerberg, che era scritto nei libri di economia, si diceva che avrebbero vinto i modelli organizzativi di cui l'acqua, quella cravata, quelle scarpe grosse, capi della IBM. IBM era un mostro, la più grande fabbrica del mondo, che è sparita. Mentre appunto nasceva questo sistema locale, distretto produttivo, distretto industriale della Silicon Valley, per un pochi ragazzotti, per mai scasse, a un soffriore che a un certo punto hanno inventato un nuovo modo di produrre. Allora, come dire, mi fermo qui per il momento, so che siamo in ambito anticipo e quindi apriamo subito le domande. Primo, se vi trovate a vostro agio con un ragionamento di questo tipo, oppure ancora più spaesati. Tenete conto che a fianco della, cioè io come economista una volta mollati i miei modelli matematici e le mie certezze, sono stato catapultato dentro di una cosa che gli economisti con cui sto lavorando adesso chiamano incertezza ontologica. Detta così spaventa tutti. Sono catapultato anch'io come esperto, come studioso, dentro una dimensione nella quale veramente non mi fido più di niente, di anche delle mie stesse idee. E, come dire, mi fido sempre meno perché sta crollando poi anche nel sistema più scientificamente forte, l'apparato scientifico che per molti anni in modo, diciamo, positivista abbiamo utilizzato. Stiamo, in questo momento, anche noi economisti che siamo trovati in queste difficoltà, cercando di capire come usciamo non tanto da Galileo o da Newton, cioè un tipo di, come dire, modello scientifico molto rigido, molto strano. Ma comunque usciamo fuori addirittura da Darwin e della sua teoria dell'evoluzione per riuscire ad avere dei riferimenti utili per fare il nostro mestiere, per essere utile alla società, non raccontare balli o cose confuse, ma per dare dei contributi. Siamo nel mezzo di questa incertezza per dire stiamo recuperando molto l'idea che per andare verso il buio, dentro la galleria appunto dell'incertezza, forse proprio lavorare sulle strutture narrative, sul modo in cui noi rappresentiamo la realtà è la cosa più importante. E per capire dove si va, come dire, per esempio in questo territorio come in un altro, usando il binocolo delle narrative, non basta più intervistare quattro dati o quattro persone potenti e i loro, magari più avanzati degli altri, il loro modo di pensare. Ma bisogna raccogliere il modo di pensare, le strutture narrative anche della signora Maria, ad Arzignano il gruppo dei più potenti imprenditori del territorio che sono 4 o 5, assistiti dagli illustri professori, come dire, ma proprio bravi e sinceri, cioè non prezzolati dagli imprenditori. Si è fatto un'idea di come si poteva risolvere il problema dei fanghi attraverso una tecnologia che pirolifica, che brucia i fanghi, li usa come carburante e poi li trasforma in mattoncini vetrificati che si possono mettere in discarica con problemi, con pericoli inferiori di questi. Beh, quelli lì non sono riusciti a fare un passo avanti in dieci anni perché la signora Maria non riusciva a capire cos'è quella roba lì. E difatti, come dire, nonostante qualche esperto dicesse no, ma la soluzione per i problemi della conceria dei fanghi c'è ed è quello lì, nonostante ci fossero alcuni che tirando le aste dei conti e della logica chimico-fisica, dicevano il punto di caduta è quello lì, come dire, il sistema nel suo complesso, quella strada lì suggerita dai visionari o dagli esperti non l'ha seguita, quindi non c'è stato cambiamento e ancora oggi il problema dei fanghi, il problema principale, irrisolto in quell'industria. E non si risolverà fino a che non si riuscirà a fare un lavoro collettivo di interpretazione di quel problema in maniera tale che anche la signora Maria che poi vota il sindaco capisca da che parte andare, si senta rassicurata, non intimorita, vada avanti ovviamente in maniera sperimentale senza fare baraconi di colpe come qualche volta si fa sbagliati dal primo all'ultimo mattone. Però se non si risolve questo problema di capire quali sono le storie guida, come queste vengono digerite a livello collettivo, in che modo i comuni, la politica e gli altri colletti bianchi che svolgono questa funzione di gestire, di tradurre le strutture narrative poi in procedure, delibere, regolamenti, eccetera. Tutta sta macchina qua, come dire, bisogna vedere come riesce a funzionare per fare in modo che questa nostra collettività cominci a muoversi, a sintonizzarsi sul canale provvisoriamente, chiamiamolo metropolitano, di un gioco sociale più evoluto di quello che abbiamo fatto finora proprio per fare l'assunzione delle decisioni, della regolazione del sistema delle imprese, del sistema sociale che matura all'interno delle province e dei comunici. Io volevo introdurre il ragionamento su dove andiamo a sbattere, riprendendo proprio gli appunti che mi ero fatto per una mattinata di orientamento con le famiglie a terza media per decidere cosa fare. No, non è questa. Per prima volevo partire con queste immagini, adesso cambio e... Aspetta che bisogna che c'è una... Sì, la prossima. Non riesco a ingrandire? No, e... Questa immagine ve la lascio purtroppo anche se non so perché per ragioni di standard che si è spariti gli anni, ma credo che qui sia proprio il 95 fino al 2008. Questo grafico qua è un grafico che io faccio sempre a vedere a tutti perché è il grafico che più mi inquieta perché ci rappresenta come è andata la produttività globale dei fattori, cioè la produttività del nostro sistema. La produttività oraria, non mi sto a dire come si fanno i caicoli, ma diciamo qua, quanti che porta a caso un'ora del lavoro di un italiano rispetto alle ore di lavoro analogamente calcolate di un inglese, un francese, eccetera. L'articolo è che, come dire, tutti i paesi più industrializzati, nonostante la crisi del 2008 che negli ultimi anni lì, però, come dire, negli ultimi vent'anni hanno, come dire, migliorato l'efficienza per ogni ora lavorata, la gente porta a casa e qui... Il nostro problema come Italia è che, come dire, anche se all'epoca dei distretti noi abbiamo registrato tassi di efficienza, insomma, molto elevati e quindi la divisione del lavoro che rappresentavo prima ha prodotto un incremento consistente che poi si trasforma in reddito, no? In tasca delle persone... Quindi sono annetto o assoluto? Annetto di cosa? Il tasso. Beh, annetto delle tasse oppure solo che si intasca le tassi? No! È stata una mia semplificazione dire che questo grafico ci rappresenta quanto portiamo a casa per ora lavorata, meglio dire quanto riusciamo a produrre in un'ora di lavoro, ok? Quindi non è tanto... non c'è un ragionamento fiscale, anzi, un ragionamento, sì, di più pro capite, messo così, messo un po' più sofisticato, quanto riusciamo a produrre per un'ora lavorata? È un indice, ovviamente, che dice l'incremento e ti vedi che tutti i Paesi continuano, come dire, ogni anno a migliorare l'efficienza per ogni ora di lavoro riesce a produrre una torta un po' più grande dell'anno precedente. E l'Italia no, cioè la cosa drammatica del nostro Paese è che per ragioni che mescolano il declino dei settori manifatturieri di cui comunque c'è qualche segnale, noi continuiamo a esportare anche i conciari che è il sistema un po' più tradizionale che continuano ad avere crescita i tassi di esportazione elevatissimi. Quei che fanno anche da queste parti hanno, come dire, in media un andamento buono, però qualche scricchiolio c'è ovviamente anche nel sistema produttivo e manifatturiero, molto più scricchionante per le cose che dicevo anche prima, è il nostro sistema di servizi, che mette dentro tutte le cose che dicevo prima, servizi pubblici, servizi privati, associazioni, perché anche io sono stato presidente del terziario avanzato di confindustria, 1500 aziende rappresentate a livello veneto, c'era la vera paura, adesso mi lo dico qua fuori al microfono dove si è cancellare questa parte, abbiamo un terziario avanzato, povero, non è possibile che nella associazione industriale di Vicenza la mia azienda che è un gruppo di amici che fanno ricerca sia molto più robusta anche a produrire il capitale della sua forza e della stragrande maggioranza delle aziende terziarie, non parliamo di terziario pubblico, non parliamo, come dire, di quello che sta succedendo nel sistema delle banche, ma anche la cosa che dicevo prima, è un sistema che deve ristrutturarsi perché, come dire, c'è tanto lavoro a pestare l'acqua nel mortaio che quindi non contribuisce all'allargamento del truppo. Ma chi è che ha la maggior responsabilità? Non sto parlando di responsabilità al momento, adesso mi dico se siamo... Però per migliorare le situazioni, cioè si deve trovare la causa? Adesso la dico tutta fin in fondo, è quello che penso nella mia parte, secondo me le cose più orribili e più orrende le abbiamo fatte nella componente collettiva e pubblica paradossalmente rispetto a quello che si fa nel sistema privato. Lo dico, vuol dire, in maniera assolutamente buonaria, faccio l'esempio dei depuratori, altra sera stavamo discutendo, depurare l'acqua o gestire l'acqua nella valle del Chiampo è un problema, tanto che Alto Vicentino Servizi, che pure ha la responsabilità del depuratore e Alto Vicentino, come dire, ha avuto un mandato dei sindici o più distanti che siamo meglio, perché se la gente sa che noi siamo, come dire, stiamo lavorando anche dall'altra parte del suo, chissà cosa succede, no? Quello è un problema, sì, che nasce dall'industria, i problemi della depurazione, eccetera, che abbiamo un sistema tra i migliori del mondo, l'acqua del Chiampo è, come dire, uno degli impianti più straordinari, però voglio dire, delle due l'una, o smettiamo di fare quell'industria lì, come a Taranto, si può decidere non se la fa più, e però bisogna trovare la maniera di far rendere un metro quadro di orto o di più di quello che fa rendere un metro quadro di una fabbrica, il problema è che abbiamo messo su fabbriche, non piantare fabbriche in giro, perché se piantavi l'insalata ci appavi molto manco che piantare fabbriche, cioè, diciamo, in maniera banale, e quindi, come dire, qualsiasi problema di produzione, di efficienza, di produttività, come dire, va affrontato per quello che è, cioè neanche dovemmo essere certo, nel caso della depurazione, cioè lì, bisogna inventare delle robe che sono tre volte più complicate delle soluzioni che abbiamo finora trovato, no? Chi si è che le pagano quelle robe lì? Allora, se tu, come dire, fai il conto che a pagare gli investimenti che servono a progettare la depurazione o, come io ho sostenuto, se mi ho detto sul giornale, lo ripeto, gli ho detto, ma probabilmente anche per i liquidi dovremmo arrivare prima o dopo a fare la raccolta differenziata porta a porta, spinta, no? Perché tutti sappiamo quando siamo passati dal cassonetto alla raccolta porta a porta perché la gente è una gara bianca nel ragionamento, giusto? Beh, è aumentata la qualità della raccolta. Sui liquidi questa roba non la femmo, tanto o meno all'interno di un distretto industriale che teoricamente dovrebbe cominciare a pensare a questa roba. So che se è una roba che, come dire, uno ti va al disimassadisito, non so se è che roba lì. No, invece io, come dire, voglio sempre per il modo di ragionare che vi ho esemplificato prima, a provare a sfidare il futuro pensando alle cose in maniera complicata. Supponiamo che la soluzione dei problemi oggi irrisolvibili del tubone unico, del cassonetto unico nel quale vengono buttati i reflui del calcinaio, le acconce, tutte le fasi di rifluzione che qua alla fine nessun capisce di gestire. Perché dal punto di vista chimico si creano delle reazioni che nessuno può controllare, ma proprio perché è matematica, cioè non c'è nessun progettista chimico che può salvare le 1500 sostanze che ti metti in mezzo come che le si lega. Recentemente il mio foro anche che c'era, non vorrei parlare per due ore di nuovo quindi adesso bisogna che torni al tema, non vorrei che, cioè mi aveva scoperto da poco che c'erano delle sostanze che servono a mobilire la pelle che, come dire, intrappolano il cromo che di solito precipita, la cosa più semplice è che la sua cromo e se lo porta avanti della parte di processo che lo fa solitamente precipitare perché lui è come una gomma americana che imbriglia un topo del ferro in mezzo e se lo porta avanti che non ti riesce a toccarlo. E ha messo in decisione di capire qua che c'era il prodotto e pensate sono anche riusciti ad individuarlo e a bloccarlo in modo tale da ritornare all'interno delle immagini. Però lì, come dire, o appunto si adottano delle regole, delle modalità di gestione dei flussi totalmente nuove oppure non si fanno i passi avanti, si va avanti ogni volta a caso per l'emergenza con l'intelligenza del gestore del depuratore che pure è pubblico. Allora il problema è che se devi produrre una cassa sufficiente a consentirti di fare, a progettare una roba come quella che ho detto adesso, un sistema di separazione dei liquidi, che tra l'altro dal punto di vista chimico è più facile che separare i solidi, però bisogna ripensarlo tutto, che magari dopo te lo vendi a tutto il mondo. No? Perché non perché... Però chi è che ci mette i soldi per quella roba lì? Ma non c'è dubbio che quei soldi lì bisogna tirarli a casa da una utility che ha una dimensione più grande di quella attualmente, delle due attualmente in opera e necessariamente bisogna tirar dentro investimenti anche di privati, di gente che dopo pensa come risolvere il problema. Ma in attimo ho fatto l'apparente, ho detto no, per l'idraulico deve essere pubblico, non può essere che un privato che decide come gestire l'acqua, lo dico perché già ero uno di quei 3% che aveva votato, come dire, per lasciare, lo dico così perché sono un provocatore, Marco lo sa e gli altri amici lo sa, ma in realtà sono anche un sincero democratico, però come dire, quindi accetto l'evido del referendo, però dopo siamo incasinati, stili dopo queste soluzioni qua e lì siamo incasinati più appunto perché ci... perché a differenza dei cinesi, no, che a un certo punto ho detto va bene, vediamo che il gatto non mi frega che sia rosso o nero, basta che ci ha pritoppi, neanche siamo ancora lì un po' presi. Ha ragione, cioè non sto dicendo che la Cina adesso che ha messo fuori il gatto rosso e ha tirato dentro il gatto nero e ha risolto di suo problemi, per carina, però voglio dire, questo per dire che l'andamento della produttività dobbiamo averlo sempre in testa, a mio avviso, l'ho detto all'inizio, addebitare queste difficoltà della produttività alle retratezze del nostro sistema produttivo, delle nostre industrie, alla retratezza mentale degli imprenditori, secondo me è la metà, metà della soglia esempio, ma è solo metà, l'altra metà invece è che abbiamo gestito male buona parte dei servizi e delle attività che abbiamo messo in piedi nella parte più collettiva, più pubblica e lì c'è, secondo me, da lavorare, proprio perché sono strutture pubbliche, da lavorare per riuscire a rigenerare il meccanismo e a produrre più, a riaumentare la produttività. Allora, questa presentazione non mi ricordo quando l'avevo fatta, adesso non ce l'ha data, ma ci introduce i temi di quali sono i settori, le attività che, come dicevi tu, dobbiamo guardare con maggiore attenzione. Guardate il titolo, questo è un titolo, credo, del 2009 o del 2010, all'epoca io vendevo quel prodotto lì, il futuro cos'è? Green, Green Economy vuol dire energia rinnovabile, tutte le cose che dicevamo anche prima, eccetera. Perché? Perché mi sembrava una roba sensata, avevo visto cosa hanno fatto i tedeschi, i tedeschi tra l'altro, rispetto al discorso degli utility, che sono partiti per prima degli altri, come sapete, sono indipendenti, adesso anche hanno cominciato a ridurre la produzione di centrali nucleari, eccetera. Cosa hanno fatto? Hanno preso gli utility tradizionali, quelli che distribuiscono le energie e dentro ogni utility, hanno aperto un ufficietto e ci hanno messo dentro un bravo ragazzo, giovane, intelligente, capace di fare la ristrutturazione degli edifici, quindi un ingegnere civile con l'idea della building automation, del green building, eccetera. Hanno preso uno bravo sull'energia solare, hanno preso uno bravo a fare le biomasse, uno bravo a gestire le reti intelligenti, le smart grid, eccetera. Hanno preso gli ufficietti, idee, sette, otto, ingegneri, scaltri, in tutte le utility, alto, vicentino, servizi, AIEM, eccetera, queste robe noi che c'è. Hanno preso la tua bottega e ho detto, boh, adesso ti metti lì, ti paghiamo e ti studi come cavo si risolve i problemi dell'efficienza energetica, come si frutta le biomasse, come si superano le contraddizioni energetiche come quelle, io cito sempre in Comune di Schio, per cui ti fai un ottimo impianto per la termovalorizzazione e il rifiuto secco, dopo ti fai un'ottima politica per la raccolta differenziata e a fine ti trovi che i due tochi non va a PGM. E vuoi qualche dunque, come dire, tenga sotto controllo in maniera sistematica tutte queste faccende, in maniera tale da aiutare la struttura pubblica di distribuzione dell'energia a cambiare, eccetera. Però nel contempo, come dire, bisogna stare attenti a non prendere degli abbagli, in quel momento mi sembrava che l'unico futuro italiano fosse la green economy, il slow food, come dire, era fuori dallo schermo, dopo lo cito in realtà. Però bisogna anche stare attenti appunto nel momento in cui guardiamo al futuro di non fare delle proiezioni eccessive, perché io parlavo di green economy, questa è una tabella che mostra l'andamento dei prezzi dell'energia, dei prezzi delle materie prime, questa è l'energia, delle materie prime, e ti vedi quasi 2008, no? È evidente da questa immagine l'idea che abbiamo grippato il motore dell'economia tradizionale, dissipativa, che non presta attenzione ai problemi energetici nel 2008, ti vedi proprio che questi dati sul mondo, ti vedi che i prezzi di... arriva il picco, 134 dollari al barile del settembre del 2008, e lì proprio si agrippa il motore, si afferma tutto, e ti dice no, non è possibile che i prezzi delle materie prime dell'energia che sono generate da una domanda superiore all'offerta continuino a crescere in questa maniera, no? È insostenibile, c'è anche una parte dell'economia che funziona come raccontano gli economisti, appunto come dire si è bloccato tutto, poi c'è il discorso anche finanziario dei derivati che ha bloccato tutto, però è evidente come dire che subito dopo la crisi del 2009 si riprende come prima e si arriva a riparare proprio fra qualche anno, cioè è evidente che nell'epoca immediatamente successiva alla crisi del business, alla grande crisi, l'idea di pensare ai business futuri come business diversi da quelli tradizionali, che non significa non far più magliette, non far più meccanica, non far più la manifattura, ma ripensare a tutte queste attività come dire in maniera sostenibile, cioè a ripensare al modo in cui fai le magliette, al modo in cui fai i mobili eccetera, e qui c'è grande innovazione da fare, in maniera da rimanere compatibili con le risorse disponibili e da non innescare meccanismi sui prezzi o sul giro finanziario come quello che abbiamo visto nel 2008 che a un certo punto paralizza l'attività. Quindi come dire, considerazioni che facevo, motore dello sviluppo tradizionale dissipativo tra in alto una spesa pubblica irresponsabile nel nostro paese è grippato, non possiamo più fare debiti, per me in quegli anni lì ci si è resi conto, è arrivato a molti anni